Ho bisogno di lei. Sono felice di farlo che tu sei qua e che possa ricevere il nostro premio per la forza, per il cuore e la premura con cui è messo in salvo Davide Cinzia e per l'altruismo dimostrato tornando nel luogo del pericolo a salvare altre vite umane. Premio Eroi di tutti i giorni a Paolo Romero. La prossima storia adesso ci porta Romano. Una cittadina in provincia di Berga.